Mercoledì 4 gennaio, in diretta dagli studi tv di Italia Mia, canale 274 del Digitale Terrestre, è andata in onda la terza puntata del Reality and Fashion Show for Designers, programma ideato da Emanuele Siciniano Management. Tre gli stilisti in gara, Gianni Cirillo e Eugenia Zorkotseva, Fabrizio Turboli, che sono stati sottoposti al giudizio della giuria tecnica, composta dalle due stiliste uscenti della scorsa edizione, Teresa Maiulo e Anna Capillari. Dai fashion blogger Luca e Mario Grossi e dal presidente di giuria Michele Gaudiamonte, che durante la serata ha regalato un momento moda con le sue splendide creazioni. Tanti gli ospiti presenti per questa terza puntata, tra cui stiliste già affermate, come Giovanna Ercolano e Maria Berardi di Matrimonio Luminoso, ospite Canoro Marica Cecere, in studio il regista cinematografico Claudio Lucarelli, Ettore Dimitroff dell'agenzia New Talent Artist, Anna Di Domenico della Lili Agency e il dottore Enrico Gallotta. L'imprenditore è Vincenzo D'Amato. Il Meca Partis è stato affidato a Imma Pone e il suo staff, mentre il fotografo ufficiale della trasmissione è stato Gianluca Beleaf. Coreografia a cura di Maria Carmen Bassallo, partnership del programma L'Accademia di Moda e Design di Maria Mauro hanno presentato Eregno De Vita e Alessandra Dorsi. Le repliche del programma andranno in onda su Cilento Chan, nel canale 636 del Digitale Terrestre.